Ciao ragazzi, sono sempre io, Tuccio Lorenzo, qui su Tuccio TV e oggi siamo qua per fare un qualcosa di davvero stupendo oggi vedremo cosa ci offre di fantastico la natura qui a casa mia davvero è accaduto un evento assai fantastico c'è un tramonto che davvero è assai impressionante e dobbiamo contemplare infatti le meraviglie della natura quindi adesso andiamo a vedere insieme cosa ci offre questo fantastico panorama guardate ragazzi quanto è fantastico questo tramonto com'è bello tutto rosso, i colori ci ricordano quelli dei chakra, del primo, secondo e terzo chakra dei colori bellissimi, il cielo è radiato proprio di questa luce rossa il cielo è azzurro e guardate che è una meraviglia anche le nuvole tutte belle colorate, tutte belle rosse davvero qualcosa di magnifico si intravede il paesaggio, l'ombra del paesaggio tutto nero non so se dalla videocamera si capisce benissimo però veramente ha visto in prima persona fa davvero effetto bellissimo, davvero